I carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro hanno fatto scattare una perquisizione all'interno di una abitazione ubicata e incontrata a Petrusa dove risulta domiciliato un pensionato originario di Palma di Montechiaro. Già da qualche giorno infatti erano stati notati insoliti i movimenti presso l'unità abitativa in questione che avevano fatto insospettire i militari. E così dopo alcuni appostamenti svolti con personale in borghese alle prime a luci dell'alba è stato effettuato un bliz presso l'abitazione finita nel mirino degli inquirenti. Durante l'accurato controllo dell'appartamento i carabinieri hanno scovato, occultati nel sottotetto, un fucile calibro 12 risultato oggetto di furto avvenuto circa 35 anni fa, nonché un centinaio circa di cartucce, una pistola a salve, sei coltelli a serramanico. Il pensionato non ha saputo fornire nell'immediatezza alcuna spiegazione sul possesso del fucile e delle cartucce che ora saranno sottoposti a ulteriori accertamenti tecnici e balistici. A quel punto i militari hanno stretto le manette ai polsi del 67enne con l'accusa di illegale detenzione di armi e munizioni e ricettazione. L'autorità giudiziaria ha disposto che l'uomo venga collocato agli arresti domiciliari.